Ma lui, se lei non ha fatto la tenuta, no, se lei non ha fatto la tenuta, come mi permette? Ma lui mi viene da fare il senso a giù, ma... E lo dici da mia, la libertà del estima è il mio sogno, e lui mi viene da fare... Prova termini, con anche le guardie delle vizie private che prendono e mandano via i... In maniera indiscriminata, senza nessuna... Senza nessun controllo, senza tipo SS, vengono mandati via senza nessuna ragione. Senza nessuna ragione, vengono mandati via. E non si può andare vicino, perché se si fa l'impresa, si portano via. Non c'è! 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 Vengono cacciati via senza nessun criterio, con un atteggiamento di QSS, questa è la conseguenza della nuova svolta autoritaria Di Maio, Toninelli e Renzi, anche a Roma Termini vengono lontanati i cittadini comunque perché anche gli esseri militari sono cittadini, senza nessun motivo, senza nessuna vera ragione di ordine pubblico, solo per la nuova svolta autoritario, un uo a P2 di Cioce e Genova. E adesso lo vanno a prendere ancora altri. Per una persona sono lì tre, tre sei, sette, tre poliziotti e tre militari, più visi, più le guardie, più le guardie private della stazione, c'è una roba da SS. e che se vedono che stai filmando ti portano via. i sei sono, no in otto, tre militari, tre poliziotti e due guardie private della stazione. e che sono, no in otto, tre militari, più le guardie private della stazione, c'è un uo a P2 di Cioce e Genova. e che sono, no in otto, tre militari, più le guardie private della stazione, c'è un uo a P2 di Cioce e Genova. è la quattro. quattro militari tre poliziotti due guardie privati tre poliziotti quattro militari e due guardie privati della stazione tutto per che cosa per niente non si sa bene perché è stato è uscito ancora per spiegarsi qui c'è l'intimidazione c'è la la svolta autoritaria di Maio, Fatonelli, Di Ciogelli e Renzi una vergogna poi il cittadino viene viene mandato via ed esce ed esce dalla stazione questa è la situazione una vergogna nuova P2 Eliciogelli la nuova svolta autoritaria anche a stazione termini non è vergogna